ciao ciao a tutti buon pomeriggio come vi avevo promesso oggi il video sui miei nuovi rossetti rossi dico nuovi perché di rossetti rossi non ne ho ne ho forse due o tra i due li ho trovati nel calendario dell'avvento nei vari calendari dell'avvento però a me il rossetto rosso è sempre piaciuto perché non l'ho mai messo quando avrei potuto metterlo e quando le mie labbra erano molto più belle molto più carnose molto più polpose molto meno rugose perché il rossetto rosso mi dà l'impressione della donna elegante raffinata e io non mi ci rivedo molto in questa in questa immagine ho in mente zie che avevano classe sempre coi capelli laccati poi forse va bene la mia immagine è un po storpiata dai ricordi di quando ero bambina però mi hanno sempre dato appunto l'impressione di donne molto raffinate sempre eleganti molto curate e io non che adesso lo sia adesso sì magari mi curo un po di più dal punto di vista estetico prima coi bambini piccoli non mi truccavo mettevo malapena la crema sulla faccia e quindi è così insomma guardando però in tutti questi mesi i video delle tante amiche che seguo che magari qualcuno è make up artist qualcun altro invece sono un appassionato il rossetto rosso proprio proprio mi piace il rosso è uno dei miei colori preferiti io ho sempre indossato indumenti rossi ho una borsa rossa ho delle scarpe rosse le tipiche ballerine che mi piacciono tantissimo è un colore che ho sempre portato soprattutto quando ero molto più giovane molto più magra molto meno preoccupata di apparire in un certo modo e quindi avevo mi ricordo un vestito rosso tutto di stretch con il corpino a quadrettini visci bianche rosso che mi stava benissimo con le maniche a sbuffo era veramente carino mi ricordo che quel vestito lo indossai una sera che ero ancora fidanzata e che con paolo perché è stato solo ed unico fidanzato che poi è diventato mio marito andammo a bellaggio nota località turistica vicino a casa mia siamo andati per mangiare un gelato avevo indossato quel vestito che mi piaceva tantissimo era una strafaiga ai tempi legato al colore rosso c'è anche un proverbio che la mia mamma dice sempre ma di cui io non conoscevo bene il significato però mia mamma quando compra un maglione rosso quando ha non so magari un orecchino che ha un punto di rosso dice sempre questo proverbio ve lo dico in dialetto poi ve lo traduco perché in dialetto ha il suo significato in italiano un po meno cinghei più se maros quindi 5 lire di più marosso e poi sono andata a ricercare il perché di questi cinghei più se allora il rosso è sempre stato un colore che nelle stoffe nei tempi antichi era di pregio no il rosso porpora dei dei preti dei vescovi ha sempre avuto un po questo questa nomea di essere un tessuto molto prezioso e che poteva essere portato soltanto da determinate persone quindi tutto quello che era diciamo la parte signorile del clero e poi perché questo legato diciamo una cosa un po più di persone un po meno abbienti perché il vino rosso nelle taverne nelle osterie di una volta era di qualità migliore di quello bianco e costava leggermente di più quindi cinghei più se marosso inteso sia per il vino che per invece le vesti cardinalizie o comunque di preti di prelati importanti e la mia mamma questo è un detto che dice sempre per qualsiasi cosa che lei mette di rosso o che vede di rosso e che si vorrebbe comprare allora io ho comprato questi sei rossetti rossi e sei mattite più o meno rosse questo è il telefono interrompo perché è la rinella che sicuramente vuole qualcosa mannaggia me che penso sempre male non era la rinella ma era la pubblicità che io non riesco a togliere dal telefono fisso ma andiamo avanti altrimenti perdiamo tempo e non vi faccio vedere queste meraviglie e quindi tornando a bomba quando a natale ci sono stati i saldi di kiko il 3 più 3 quindi tre prodotti gli acquistati e tre prodotti che costavano meno erano in omaggio io ho fatto una scorta una badilata di rossetti rossi e di matite per le labbra rosse allora io non sono capace di mettermi le matite per le labbra ma ma per fortuna c'è youtube con tutti tutorial con tutte le make up artist che comunque ci aiutano e ci danno dei tanti consigli per poter applicare il rossetto in generale ma comunque le matite i rossetti rossi in particolare ve ne cito due che in questo periodo sto seguendo tantissimo una l'ho appena scoperta l'altra è comunque molto famosa e ci sono dei video che sono veramente molto interessanti su come applicare il rossetto rosso anche in base al make up che si ha sul viso per esempio ho imparato da michela di maio da amici che infatti le sta benissimo parte che lei sarebbe bene assolutamente senza nessun tipo di trucco perché è stupenda ed è giovane ed è una bellissima donna e ragazza ma generalmente quando lei per esempio indossa il rossetto rosso michi correggimi se sbaglio il suo trucco è veramente molto molto leggero quasi impercettibile e effettivamente il focus è tutto puntato sulle labbra quindi dovrò anche capire e cercare non che io faccia dei trucchi particolarmente elaborati anzi no perché sono una capra come dico a tutti ma ovviamente il trucco degli occhi molto molto leggero quasi quel make up no make up si dice così adesso giusto e dovrò dovrò imparare dovrò esercitarmi mi potrò divertire molto allora che altre cose volevo dirvi prima di mostrarvi il tutto che ho qui sul tavolo allora sì i due canali che vi voglio consigliare uno è molto famoso è quello di marianna zan benedetti che è molto brava è una make up artist e c'è proprio un video che poi vi lascerò nell'info box dove da delle indicazioni su come mettere il rossetto rosso su come farlo durare un po di più su quali accorgimenti si possono così utilizzare per avere una durata più lunga del rossetto e della matita l'altro canale che vi voglio segnalare e che ho scoperto da poco e di cui io mi sono innamorata è quello di giusi giusi è una make up artist abita ad amsterdam giusi l'ho detto molto lentamente così tutti ti possono conoscere il suo canale è scarlett diva make up e anche questo poi ve lo lascerò nell'info box lei proprio oggi ha fatto uscire un video presumo che tra le richieste che lei ha voluto appunto ascoltare ci sia stata anche la mia perché sotto un commento ai suoi video che reputo molto belli molto tecnici interessanti e soprattutto veri ed onesti lei è simpaticissima è ironica io ogni volta che vado a vedere un suo video oltre ad imparare perché imparo molto mi diverto mi diverto tantissimo perché lei pane pane vino al vino e sono quelle persone che piacciono a me le persone sincere che non devono dire per forza che un prodotto è buono perché è di una certa marca perché è in un certo range di prezzo cioè lei quello che pensa dice e io apprezzo tantissimo le persone sincere ed oneste perché mi possono dare appunto un'immagine di quello che è veramente il prodotto che stanno utilizzando indipendentemente se il prodotto ci possa piacere o non ci possa piacere vi lascio poi sotto nell'info box i riferimenti di queste due persone in particolare che in questo periodo sto seguendo ma ce ne sono tantissime altre e penso che non sia difficile scoprirlo basta cercare su youtube come mettere il rossetto rosso e vi esce una svalangata di vi escono una svalangata di video che voi potete poi visionare a vostro piacere ma veniamo alla parte più succulenta e bella il primo rossetto li ho comprati rossi rossi intensi rosso vivo rosso natale rosso bordeaux tutti i rossi che mi piacevano io li ho comprati il primo rossetto adesso qua io mi sono segnata tutto ma devo anche vederci il primo rossetto che voglio far vedere è della blossoming blossoming beauty il colore numero 4 io li ho cercati tutti abbastanza cremosi e non matt perché avendo io le labbra comunque agi avendo delle cicatrici che mi ha lasciato l'herpes giovanile perché io fino a prima di sposarmi avevo tipo 5 6 febbri ogni anno perché ai tempi ero debole e lungilinea no beh non c'entra niente in lungilinea perché io ho davvero sempre sofferto molto di herpes labiale e poi ad un certo punto dopo che ho avuto i bambini non non mi è più non mi è più uscito o comunque una volta o due all'anno ma proprio in maniera leggera e questi herpes mi hanno lasciato delle cicatrici piccoline ma che mi danno fastidio magari le vedo soltanto io e ho notato che comunque definendo le labbra con la matita a questa cosa rimane molto meno visibile ho sempre usato e mi piacciono tuttora i colori nude i colori rosati i marroni che tendono al rosa e rosa che tendono al marrone i gloss perché comunque mi sembra che evidenzino di meno queste mie imperfezioni ma poi mi sono detta ma a 53 anni a meno che proprio non sia una maschera colorata chi se ne frega mi piace il rossetto rosso ma me lo metto me lo metto il rossetto rosso e chi se ne importa e quindi così mi sono data alla pazza gioia allora come sempre ti vago il rossetto di cui vi sto parlando ripeto è il blossoming beauty flower glow hydrating va bene lipstick 04 ed è va bene le scatole le ho buttate perché nella foga di aprire tutto poi ho buttato detto che stupida potevo tenerle che così facevo anche lo spacchettamento comunque questo è il bullet questa è la decorazione che c'è sul tappo che è meravigliosa che ha la forma di una corolla di un fiore di una rosa adesso non so bene e il colore spettacolare è questo è proprio un rosso meraviglioso ora ve lo svuoccio qua che poi sulla mano secondo me vira leggermente al fucsia e questo mi va bene perché di rosso natale ne ho preso uno solo perché quello ragazzi è strong non so mai se lo metterò ma questo è bellissimo poi secondo rossetto che è lo 07 adesso vado a cancellare quelli che dico perché non c'ho qua neanche più la biro fa niente colore finale 07 il festival glow no transfers matte lipstick vabbè questo matte l'ho preso ma era veramente troppo bello vedremo poi come si comporta allora il bullet è questo in questo colore dorato lucido sotto e qui opaco e questo è un bellissimo rosso molto elegante molto 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 bello con queste decorazioni sul rossetto spettacolare e ve lo metto vicino a questo vediamo così si vede subito e questo è proprio matte però sulla mia pelle perché poi dipende anche dal colore della pelle non è rosso come mi appare nel bullet lo vedo sempre che ha questo tono è questo questo tono che vira un po' al al fucsia non è un rosso un rosso pieno rosso proprio rosso natale diciamo così e questo devo dire non mi dispiace perché guardandolo così mi sembra proprio un rosso invece più vedete è leggermente diverso comunque mi piace tantissimo questo è matte quindi poi vedrò come sarà sulle mie labbra poi passiamo a questo che è il colore 206 dei glossy dream sheer lipstick io scelgo sempre quelli abbastanza morbidi a parte il matte lì e questo è carino perché guardate molto semplice si schiaccia in alto qui dove c'è il marchio di Kiko ed esce il bullet questo è sempre rosso poi vi lascerò comunque nell'info box tutti i colori i miei occhiali si stanno scurendo con la luce e questo lo vediamo qua che poi secondo me ecco questo ve lo lascio qua guardate che bello bellissimo devo soltanto imparare a metterlo e questo è il numero 206 glossy dream poi il fantastico rosso natale questo è il numero 12 ed è idra shini lip stilo numero 12 anche qui il bullet è molto essenziale e questo è un rosso strepitoso vediamo dove lo posso mettere qua non si va bene mamma mia sembra che si assomigliano tutti però sono diversi questo è proprio un bel rosso bello 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 ecco questo lo vedo proprio come rosso natale ora mi sono portata anche l'acqua micellare così riusciamo a toglierli insomma vengono via abbastanza bene però questo qua l'ultimo che ho messo un po' di tinta la lascia bene speriamo che non mi spariscano subito dalle labbra e gli ultimi due che sono della stessa collezione bellissima che aspettate che vado a leggere e ciao qua proprio zero non ci vedo ah era quello per il compleanno quindi happy birthday bellezza velvet passion matte lipstick numero 05 vediamo se riesco a capire quale dei due mamma mia 05 dovrebbe essere questo e l'altro è lo 04 questo è più un rosso bordeaux con una punta di marrone bello questo sono sicura che riuscirò a portarlo molto di più con più facilità bello ecco sono dei colori per me un po' inusuali e questo invece è lo presumo lo 04 però ragazzi vado in fiducia perché non vedo assolutamente niente e questo è un po' più mattone si vede lo mettiamo sopra ecco mattone lì e poi qui sembra più rosina però questi due sicuramente sono quelli che riuscirò a portare vediamo ecco così sono giusti a portare più facilmente perché sono dei colori che sono molto simili a quelli che io utilizzo di solito e con i rossetti noi abbiamo finito adesso non potevo non comprare da da delle matite tenete conto che io ho pochissime matite labbra perché ripeto non ho mai sentito l'esigenza utilizzando per lo più dei rossetti dei lipstick più che rossetti lipstick tipo quelli di Catrice di Deborah anche di Kiko ma che sono molto morbidi e non sono prettamente delle tinte labbra che poi rimangono per tutto il giorno quindi poi io al lavoro che ne so bevo il caffè mi fumo la sigaretta arrivo quando devo tornare a casa che non ho più niente sulle labbra ma a me non è che interessa tanto poi ho i miei due o tre colori di riferimento che mi porto in ufficio per tamponare perché mi piace comunque avere le labbra morbide e quindi va bene quindi le matite labbra io non le ho proprio mai utilizzate anche perché quelle che io avevo sempre provato erano molto dure sia quelle in legno sia quelle con la mina sottile che poi appunto girando la mina escono non so non ho mai avuto questo amore per le matite poi parlando con la mia amica Antonella del canale Fare e Disfare che lei è un'appassionata di matite della della Kiko ma anche tantissime altre amiche che sento che parlano di matite della Kiko la Elisabetta R la Moira di non mi ricordo il canale poi comunque ve li metto sotto tutte le persone che le mie amiche che nomino ve le metto sotto parlano molto bene di questi creamy color della Kiko perché sono molto cremose sono molto morbide ed effettivamente avendole provate le ho provate soltanto una sulle labbra perché poi ho paura di non saperle usare però effettivamente è tutto un altro tipo di matita quindi diciamo che io ho preso quattro tipologie di creamy color le classiche quelle che sono in a catalogo sempre permanente e due che erano di un'edizione speciale che sono veramente fantastiche e sono quelle in edizione speciale adesso ve le dico ray of love long lasting lip liner la numero 5 che qua dovrei riuscire a vederlo perché è scritto un po' più in grande santa maria mater day la numero 5 che è questo rosa un color nude carne molto carino che può essere messo su tutti i tanti dei rossetti che ho mamma mia come scrivono e che morbide eh sì tutta un'altra cosa da quelle che avevo anzi questa qua mi si è anche spaccata la punta ho calcato un pochettino di più allora questa è la numero 5 della ray of love rifaccio ray of love long lasting lip liner questa ed è questo colore ok poi abbiamo invece la numero 07 che è un po' più rossa urco cane si può dire non lo so ed è quella lì ma poi sono morbidissime sono stupefatta belle 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 poi invece passiamo alle classiche che però non sono niente male allora questa è tra l'altro i colori quelli classici nude al carne diciamo i primi tre che ci sono negli scaffali perché poi sono andata anche a provarle ma li ho comprati online perché costavano di meno perché avevo lo sconto non ci sono mai e faccio fatica a trovarle però secondo me queste possono comunque ecco questa per esempio va benissimo con la maggior parte dei rossetti che ho ed è la terza questa bellissima e questa è la new creamy color comfort lip la numero la numero 02 questa poi abbiamo sempre della stessa tipologia la numero 11 continuiamo salendo un rosso con un bel fucsia all'interno ed è questo e poi abbiamo la 14 che belle che sono aiuto sono morbidissime eccola lì guardate che belle sfumature e poi abbiamo l'ultima che è la 17 che vira più è proprio rossa rossa e secondo me questa ci sta benissimo con il rosso natale eccola lì queste sono tutte le sfumature delle matite ok ebbene ora dovrò prendere lezioni e imparare ad utilizzarle dopo le tolgo nulla io vi ho fatto vedere un po' appunto quali sono i miei acquisti rossi perché il 2023 sarà l'anno del rosso vi ricordo anche se voi non lo fate mai io comunque lo faccio perché è una cosa che mi fa stare molto bene avere comunque cura delle proprie labbra quindi una skin care anche per le labbra una skin care cosa vuol dire fare un leggero scrub che può essere fatto con gli scrub che troviamo in commercio oppure io me lo faccio anche a casa con del miele e dello zucchero e niente lo mischio un cucchiaino di miele con lo zucchero me lo vado proprio a a spalmare sulle labbra delicatamente scrabbo risciacquo e poi mi metto un balsamo piuttosto che i balsami in stick preferisco quelli nel pottino perché mi danno l'impressione che sono più più morbidi più avvolgenti più nutrienti oppure utilizzo anche del semplicissimo burro di karité che è buonissimo me lo spalmo alla sera prima di andare a letto in dose abbondante e alla mattina le labbra sono veramente molto morbide e tutta la pellicina dopo aver fatto lo scrub vi va via ecco questa operazione la faccio circa due volte alla settimana in inverno perché io soffro di labbra secche e quindi diciamo con il freddo con il vento sicuramente si inaridiscono di più bene spero di avervi tenuto compagnia voi l'avete fatta a me anche se non ci si vede in diretta perché questa settimana è stata una settimana un po' particolare niente di grave niente di beh ragazzi le matite fanno fatica a venire via chi ha figli sa che non se ne sono sempre tutti rose e fiori e niente sono un po' così pensierosa su un figlio in particolare non c'è niente di niente di salute niente di grave però è chiaro che le aspettative che un genitore soprattutto una mamma perché vedo che comunque è diverso il pensiero di Paolo ha per i propri figli e insomma non mi fa stare tranquillo studio università lasciare non lasciare cosa faccio e vabbè cose che tutti più o meno abbiamo provato ma che ecco mi piacerebbe ogni tanto è vero che con tre figli è difficile non avere un periodo dove ci sono le preoccupazioni però mi piacerebbe che ogni tanto così ci fosse qualche mese che sia un po' più tranquillo e dire oh mamma mia che strano che non è ancora successo nulla ebbene a me non capita mai da 24 anni bene cari amici e care amiche io vi saluto spero di avervi fatto compagnia vi ringrazio di averle fatta a me e ci vediamo prossimamente probabilmente o sabato o domenica ma non sono sicura dipende da come andrà il weekend in compagnia del figlio il prodigo ciao e a presto a presto a presto a presto a presto